E' inutile nasconderci, anzi, è inutile che i soggetti istituzionali si nascondino o cerchino di accampare scuse. Le barriere architettoniche esistono e vi sono grosse difficoltà per i diversamente abili ad accedere anche nelle strutture della ASL. Sono con Francesco Vinci, che è presidente dell'Associazione Disabili Attivi. Allora, Francesco, questa mattina tu sei alla ASL di Via Pupino. All'una c'è la visita per rinnovare la patente speciale. Allora, ci sono due possibilità. O entri dall'ingresso principale dove c'è un servoscale di cui la carrozzina mia non riesce a contenerla perché la pedana è piccola. E allora cosa si fa? Si entra dalla parte in cui c'è l'ascensore. Esatto. E vediamo se è possibile entrarci. Possibile. Francesco sta salendo, apre la porta, anzi no, citofona, bisogna citofonare. Quindi il diversamente abili con tutte le difficoltà annesse e connesse, deve andare anche a retromarcia. In discesa, con una discesa molto ripida, non so se a norma, e così facendo la carrozzella se ne può andare all'indietro e il diversamente abile può andare a sbattere chissà dove. Ora ha citofonato ed è in attesa che qualcuno gli apra. Si potrebbe dire, giusto per ridere un po', no, per sorridere, butta la chiave gelsomina, no, come era la famosa canzone. Citofoniamo di nuovo Francesco. Quindi, la porta è ancora chiusa, ma riproviamo a citofonare. Faccio io, Francesco. Vediamo, magari sarò più fortunato, chissà se sarò più fortunato. La lotte in via. La lotte in via. Prendiamola a ridere per non piacere. Perché, no, però puoi far vedere quella lettera e la risposta. Ora facciamo vedere. Ora guardate le difficoltà che ci sono ad entrare. Come fa il diversamente abile a entrare? Guardate come non c'è lo spazio, deve fare mille contorsioni per entrare. Deve scendere, deve girarsi. Guardate, ci sono grosse difficoltà per fare entrare un diversamente abile. con il rischio anche che la carrozzella è lì e la scala di dietro, la carrozzella non entra sulla pedana. È troppo grande questa per quella pedana. Ora vediamo come fare. Eh, vediamo. Vedete, e ora chiude la porta. Scusi, se chiude la porta lo lascia fuori. Fai vedere quella lettera. Non entra. Non entra. Non vede sopra come fare. Vede le difficoltà che ci sono. Non è colpa sua, per carità. O entro o manfa il disfaccio. Non è l'ascensura, no? Eh sì, però qualcuno mi deve mangiare. E si faccia più indietro. Eh sì. No, indietro come va? Come va? Ah, ora sì. Ecco, manteniamo. Però vedi. Entra Francesco. Come vedete abbiamo voluto dimostrarvi purtroppo le difficoltà, le barriere che ci sono. Eppure era stata data una risposta da parte dell'ASL. Era stato risposto così. In riferimento alla nota in oggetto, si fa presente che la sede della commissione medico legale in via Pupino 2 barra C, in precedenza ubicata al secondo piano, è stata trasferita al primo piano al fine di poter agevolare gli utenti con disabilità. Questi ultimi possono accedere alla struttura utilizzando sia il servoscala meccanizzato, che però non riesce a contenere questa carrozzella, aiutati da un operatore su chiamata, sia dell'ascensore sito all'ingresso di via Viola a 50 metri dall'ingresso principale. Vi abbiamo voluto far vedere le difficoltà che ci sono. Ma torniamo dal nostro amico Francesco, ora l'operatore ci raggiunge, anzi Francesco ecco ti aiuto io, stai tranquillo. Vedete quante difficoltà, anche per me che sono normodotato. Spostati in favore di telecambio. Allora a dire la verità, la commissione medica, non so se tutti lo sanno, è stata cambiata del tutto e siamo stati noi, io e l'associazione mia insieme ad altri soci a denunciare il fatto che la vecchia commissione non era del tutto favorevole ai disabili che guidano l'auto. Siamo riusciti a cambiare tutta la commissione, i componenti sono cambiati tutti e ci avevano promesso che avrebbero risolto anche il problema della sede. E quindi per accedere? Informalmente loro ci dissero che le visi sarebbero avvenute dove prima c'era la guardia medica in via Le Magna Grecia. Che era facilmente accessibile. E' un terreno facilmente accessibile, con molti parcheggi, in modo che le persone con disabilità avevano l'auto. Dopo allora non hanno fatto più niente. E anche qui c'è un'operatrice la quale dice che ce la fa entrare nell'ascensore? Nell'ascensore sì. Bene, proseguiamo Francesco. E c'era stato promesso questa cosa. Adesso ci sembra strano che dopo la nostra richiesta, dopo tanto tempo di ricambio sede, ci venne risposto come se abbassare al primo piano significa renderlo più accessibile. O primo, o secondo, è l'accesso alla difficoltà. Bene. Allora, Francesco, noi ti saremo vicini a te e a tutti i diversamente abili. No, no, ora lo facciamo inquadrare il foglio. Posso prenderlo? Sì, buono. Benissimo. Questi sono tuoi. Li rimetto qui dietro, va bene? Sì. Ecco qui, aspetta. No, dammi l'immagine. Ma poi immaginate se oggi, anziché il sole, avessimo avuto la pioggia, eh Francesco? Eh, e poi non ho capito. Io guido la macchina e io devo andare a fare la patente e mi devo portare una persona per poter aprire la porta. Cioè non è possibile. Con tutte le leggi, si parla dell'ONU, dei diritti della persona con disabilità e siamo a questi diversi. Proprio Lazaro che dovrebbe dare l'esempio, non dà l'esempio. Bene, Francesco, questa è una battaglia di civiltà che dobbiamo portare avanti. Ovviamente non solo per Francesco, ma per tutti i diversamente abili. Perché nella vita, Francesco, noi pensiamo di essere sicuri della nostra salute, ma il destino, tutti sotto un cielo siamo. Siamo, auguriamoci che non accada mai, ma dovremmo pensare che un giorno, sventuratamente, facendo tutti gli scongiuri del caso, potrei anche io finire, potremmo anche noi finire su una sedia a rotelle e vivremmo questi drammi. Forza Francesco, in bocca al lupo e buona giornata. Ciao, ciao, ci vediamo, saluti tutti. Ciao, ciao.